Giornale Radio Nuova Don Lamberto Pigini ha sempre avuto uno sguardo rivolto al futuro con una predilezione per la formazione lavorativa e allo stesso tempo umana dei giovani. La sua visione di azienda vedeva sempre al centro l'uomo e la solidarietà. A proposito di aziende, Don Lamberto Pigini aveva rilevato la Eco negli anni Ottanta dopo la morte della fratello Oliviero, per poi impegnarsi alla Tecnostampa e alla Eli, attive nel settore dell'editoria. Ha avuto un ruolo molto importante nella formazione di Iginio Straffi, a capo della Rainbow, il creatore delle Winx. Nel 2004 ha ricevuto la Laurea Honoris Causa dall'Università di Macerata. Don Lamberto Pigini è stato inoltre un importante sostenitore di Radio Nuova Macerata in blu. Ascoltiamo un brano dall'Omelia del Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi. Ogni persona merita amore e vale perciò la pena di provare sempre ad investire nel bene. Questo ottimismo cristiano è il segreto di ogni imprenditoria, sia pastorale che economica. Ci dicevamo con Don Lamberto che solo la fede dà quella luce di speranza che fa guardare al futuro. Aveva la fede in un Dio che quando ti metti a fare del bene rende possibile quello che altri ritengono impossibile. Anche Don Lamberto sentì risuonare tante volte nel cuore la frase di Gesù date loro voi stessi da mangiare e non si è limitato a predicare ma si è messo a capo di tanti che allora erano giovani e volonterosi per trovare il pane attraverso il lavoro. Posso comunicarvi che nella prossima settimana la nostra regione sarà gialla, una boccata d'ossigeno dopo un lungo periodo di restrizioni dure, ma dobbiamo restare prudenti perché il virus c'è e gira molto. Così su Facebook il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli intervenuto nel pomeriggio di ieri una volta a conoscenza della fascia in cui le Marche saranno collocate da lunedì prossimo. Come previsto dal decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 gennaio scorso, per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, vige il divieto su tutto il territorio nazionale di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma. Inoltre, nei giorni di oggi e di domani, si applicano su tutto il territorio nazionale le misure previste per la cosiddetta zona arancione. Sono comunque consentiti negli stessi giorni gli spostamenti dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti entro i 30 chilometri dei relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. E vediamo ora la situazione del contagio da Covid-19 nelle Marche. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.311 tamponi, 4.024 nel percorso nuove diagnosi e 1.287 nel percorso guariti, con un rapporto positivi testati pari alla 17,1%. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 688, 113 in provincia di Macerata, 212 in provincia di Ancona, 204 in provincia di Pesaro-Urbino, 103 in provincia di Fermo, 19 in provincia di Ascoli-Piceno e 37 fuori regione. Nel percorso screening antigenico sono stati effettuati 1.735 test e sono stati riscontrati 109 casi positivi da sottoporre al tampone molecolare. In questo caso il rapporto positivi testati è pari al 6%. Focolaio Covid all'Asp Porcelli di Tolentino. I dati dei contagiati sono stati convalidati e confermati dai tamponi molecolari, così come predisposto dal distretto sanitario di Macerata e i cui risultati fanno registrare 80 positivi al Covid-19 su 86 ospiti. I pazienti sono in maggioranza asintomatici, senza febbre o problemi respiratori e in buone condizioni fisiche. Solo alcuni di loro necessitano per alcuni periodi della giornata dell'aiuto dell'ossigeno. La situazione varia di ora in ora e tutti gli ospiti sono monitorati continuamente. Cinque pazienti sono stati trasferiti in via precauzionale all'ospedale di Macerata. Il sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi, il presidente Giorgio Sbaraglia e il direttore della struttura, Simone Ricci, come nei giorni scorsi, oltre a monitorare continuamente i cambiamenti della situazione sanitaria all'interno dell'Asp, cercano per quanto di loro competenza di essere di ausilio per tutto il personale che continua a lavorare con grande spirito di sacrificio ed abnegazione. L'Asura Reavasta 3 comunica che martedì 12 gennaio partirà lo screening della popolazione sul Covid-19 al Palazzetto Risorgimento di Civitanova Marche. Il servizio di screening sarà attivo dal 12 al 17 gennaio, dalle 8 alle 20, ed è rivolto a tutti i cittadini dei comuni di Civitanova Marche, Morrovalle, Monte Cosaro, Monte San Giusto. La partecipazione allo screening con test antigenico, rapido e su base volontaria ed è gratuito. Per accedere al servizio sarà necessario esibire la tessera sanitaria e il modulo di richiesta di accesso al test, scaricabile anche dal sito asur.marke.it alla sezione News. Qualora il test risulti positivo, il soggetto sarà prontamente richiamato per effettuare il tampone molecolare di conferma e sarà posto in isolamento domiciliare con le raccomandazioni relative ai comportamenti da adottare. I carabinieri forestali del nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Macerata, unitamente ai militari delle stazioni Carabinieri Forestale di Macerata e Abbadia di Fiastra, hanno dato esecuzione alla misura cautelare reale disposta dalla GIP del Tribunale di Ancona nell'ambito di un'indagine per attività organizzata legata al traffico illecito di rifiuti. Sequestrato l'intero impianto di una ditta assita nel comune di Macerata, le indagini hanno consentito di delineare un ampio disegno criminoso volto ad ottenere un ingiusto profitto derivante dalla illecita gestione di maggiori quantità di rifiuti o dalla gestione non autorizzata di rifiuti, dal risparmio illecito sui costi di recupero, smaltimento e trasporto. Oltre alla ditta interessata dal sequestro, è stata deferita a piede libero per traffico illecito di rifiuti anche un'altra ditta del maceratese con sede legale a Tolentino. L'organizzazione criminosa ha visto il deferimento per reati che vanno dalla gestione illecita truffa subappalti non autorizzati di 31 persone, tra questi 23 responsabili legali di aziende dedicate a lavori edili i movimenti terra, due direttori dei lavori, un funzionario pubblico responsabile del procedimento e tre proprietari e committenti dei lavori, tutti residenti per la maggior parte in provincia di Macerata. Può finalmente partire la ricostruzione post-sisma a Frontignano di Ussita. La prima fase degli studi di approfondimento sulle faglie note che interessano alcuni centri urbani nel cratere della sisma 2016 ha infatti consentito di escludere l'esistenza di una faglia attiva e dunque pericolosa nel nucleo abitato. Nello stesso tempo, questa prima fase di analisi ha permesso al gruppo di lavoro di escludere la presenza di ogni fattore di rischio legato alle faglie per la zona urbana di Macerata. Gli studi di approfondimento sulle faglie erano stati affidati il 5 ottobre scorso dal commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini all'INGV guidato da Carlo Doglioni. La prima parte di questo lavoro realizzato insieme alle università del territorio si è conclusa ieri con la presentazione dei risultati ai sindaci dei 12 comuni interessati, nel pieno rispetto dei tempi previsti. Nella seconda fase del lavoro, che si concluderà entro la primavera, saranno effettuati studi più dettagliati sulle altre faglie attive. Lo scopo degli studi è quello di verificare la reale pericolosità di queste faglie e di terminare le corrette fasce di attenzione, ovvero le distanze minime che devono avere le nuove costruzioni da queste fratture del terreno. Sono oltre 35.000 le persone raggiunte attraverso gli eventi social organizzati dal comune di Macerata durante il periodo natalizio. Un Natale che ha dovuto fare i conti con la pandemia e con l'impossibilità di eventi in presenza e dal vivo. Sono state invece oltre 23.000 le visualizzazioni sui canali YouTube del comune e dei partner e quelle relative alla mostra dei presepi allo sferisterio grazie ai tour virtuali. Abbiamo cercato di valorizzare al meglio tutti gli angoli della città, consapevoli delle restrizioni anticontagio che tutti dobbiamo continuare a rispettare in attesa dell'arrivo del vaccino per tutta la popolazione, ha detto il sindaco Sandro Parcaroli. Un ringraziamento a tutti gli attori che sono scesi in campo in questo periodo difficile con gesti di solidarietà e generosità che mi auguro abbiano seguito anche nel progetto di crowdfunding che abbiamo appena lanciato grazie al lavoro del vice sindaco e assessore Francesca D'Alessandro, il cuore grande di Macerata, attivato per sostenere le famiglie in difficoltà che hanno subito una sostanziale riduzione del reddito a causa dell'emergenza, conclude Parcaroli. Dopo il rinvio della gara contro Sandonà di Piave, la pallavolo Macerata ha l'opportunità di proseguire il campionato già domenica. Il Banca Macerata Forum ospiterà alle 19 la sfida tra la Medstore Macerata e Sama Porto Maggiore. Gli emiliani hanno chiuso il 2020 con cinque vittorie consecutive, l'ultima in trasferta a Torino per 3-0 che gli hanno permesso di raggiungere il secondo posto in classifica. La Medstore Macerata ha invece dovuto fare i conti con un nuovo stop proprio in un momento di crescita e risultati. Che squadra incontrerà Porto Maggiore rispetto alla gara di andata? Risponde il centrale Lorenzo Calunico. Sicuramente abbiamo accumulato maggiori certezze. Non abbiamo raccolto tutti i punti che potevamo, ma ci siamo giocati ogni partita dando battaglia fino all'ultimo. Intanto domenica incontriamo una squadra in forma della quale conosciamo le qualità. Noi dobbiamo avere pazienza e continuare a lavorare. Queste sono le parole d'ordine. Trovare continuità e giocarci tutto in questa seconda parte di stagione. Il tempo nelle marche Previsioni per domenica 10 gennaio sulla nostra regione. Cielo nuvoloso, molto nuvoloso. Precipitazioni inizialmente deboli, sparse, poi nel pomeriggio diffuse, anche a carattere di rovescio, più insistenti nel settore meridionale della regione. Limite delle nevicate attorno ai 500-600 metri. Temperature in lieve diminuzione con i valori minimi mattutini in aumento. Venti di brezza tesa nord-orientali, di vento moderato lungo la costa e il crinale appenninico con raffiche fino a vento forte in questi settori. Mare molto mosso. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Da parte di Marco Morosini, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Giornale Radio Nuova Grazie a tutti.